Non mi da l'opzione del cappello... Ah no, della vanità cambi l'aspetto, forse... Ok, degli indumenti... Eccolo... Porca trota... Ha un suo merda di perché, eh... Vediamo questo... Mamma mia cosa, sono cattivo... Così, altro che qualcosa nero... Più bello così, altro che giubbotto nero, raga... Oh, Terry, ci bombardano! Via, via, via! Getto l'ancora, vai! Cazzo! No, no, che getti l'ancora! Perché non riesco a fare, Ale! Cosa fai? Che cazzo com' diiii? Eh no, come devi combattere, dove cazzo è? Ce la puoi fare, ce la puoi fare, noi siamo più piccoli! Vidati! Abbiamo qua un carico... Ma che cazzo? Raga, questa è una nave fantasma! Sì, è piena di scheletri! E ha distratto la nave nemica, attenzione, si sono fermati, eh! Sì, sì, cioè, si sono cagati in mano! No, questi ci stanno attaccando! Porca no, voglia! I fantasmi ce l'hanno con noi! No, 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 no! No, abbiamo gli scheletri, porca merda! Bravo! Attacca la parte bassa, così affondano le meccanze! Bravo! Oh, ci si rogava! Bravo, Terry, vai, sfondalo! Bravo! Ma che gli abbiamo fatto un bel po' di bucchia? Comunque se ci riesci buca sempre in basso! Ho finito le palle di cannone! Sì, ma qualcuno dovrà che andare a riparare giù, siamo pieni! Vado, vado! Vado, vado! Però non sto più, eh, non sto più! Filotando! Ma niente! No! Minchia, a me l'ho preso malissimo, eh! Eh beh, anche a me l'ho preso in faccia! Ma io son morto, raga! Mi sono dei misturi! Perché non me lo fa fare? Allora, ne ho cinque! Vado, vado, vado! Vado, vado, vado! Vado, vado! Ok, un po' sto riparando, ma... Vado male! Tu guida, eh! Ah! Madonna, quant' roba! Mi ha fatto malissimo! Anche anch'io, questo è finito la mia! Eh, ma forse ragazzi, siccome non ci entrano in barca, spero che le robe ci rimangano! Questa che non affonda una nave, Alex, sono morto! Eh, non ce la faccio, c'è troppa... Wow! Non entro la nave, ma se si affonda... Ah, è vero! Allora, vediamo un attimo, raga, perché... Non penso di riuscire a fare... I miracoli! Eh, stiamo affondando, vado! Non hai detto l'ultima parola... Lo spread resiste! Allora, questo è fatto, fatto, fatto! Ma se loro la smettono di rincorrerci, magari... Sai! E poi col secchio vedo che comunque ci sta dando una bella mano, eh! Si, erale, quel rumore di... Non lo so, secondo me... Non lo so! Via! Cosa c'è? Via! 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 Scappa! Porca merda! Scappa! Raga, ma cosa sta succedendo? Sono... Successe più cose in questi... Un'ora di stream neanche che tutto il tempo che ci abbiamo giocato tutta l'aereo! Dai, dai! Fuggiamo che il megalodonte li ha distratti, eh! Allora, guardo di riparare ancora... Dov'è che entra? Da qua, ok! Riparata! Da qua! Guarda dove? In alto, Ale! In alto? Si, qui! Dove? Guarda! Qui! Madonna, Ale! Ci sto puntando, cazzo, il megalodonte! Dove sei? Come il megalodonte! Ok, l'ho visto, l'ho visto! Perfetto! Sto riparando! La nave è rimasta dietro, però! Vai di secchio! E poi ci servono per forza le banale, raga! Eccolo! Una banana! Ok! Due banale! Via, via! Adesso guidiamo e basta! Cazzo c'è il megalodonte, Ale! Ma come davanti? Eh, eh, si! Ci sta girando! Ci sta girando intorno! A vederlo gli tiravo una cannonata! Porca! Eh, ma dobbiamo, Ale! Dobbiamo consegnare! Sennò veramente abbiamo buttato via tre tesche! Vai, vai, vai! Vai verso la vanposta! Io li... Sparo cannonate! Non vedo più il megalodonte! Eccolo lì! Ma non fare così! Non fare così! Tagliagli la strada! Bravo! Bravo! Al carasso! E' ancora qua! No merda di un pelo! Ci vuole... Mi sa che ci vuole... Provare, eh! Vediamo se con le palle di canale lo allontano, sta merda! Non l'ho preso! Ci sta avvicinando anche la nave, Ale! Ok! Come la vedo brutta! Eh, lo so! Girati! Per il megalodonte, Ivan! No! L'ho preso! L'ho preso il megalodonte! Lui che ha preso noi! Anche lui? Non lo so! No, no, no! Pulito, pulito! Pulito, pulito! Ce l'ho davanti! Cazzo! Ci abbiamo dietro la nave, Ale! Porco! Andiamo a prendere una velocità! Puttana Eva! Dai, vai! Carretta! Muoviti! Eh, io non posso sparare! A meno che non me lo fai trovare a destra, ma... Vada a prendere le altre palle! Eh, Ale! Però noi dobbiamo consigliare... Eh, ma io non posso aumentarti la velocità! Ci abbiamo dietro si stronzi! Eh, lo so! No, non abbiamo più! No, 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 no! Che stronzi! Però quanto dura! Stanno puntando megalodonte! No, no, no! Ma la vuoi passiva! Subito! Assolutamente! Via via! Non si mostra mai il fianco! Assolutamente! Guarda che c'è un avamposto davanti! Eh, a quello dove stava andando noi! Ok! Ah! Alla nostra destra, appartamente! Lo so, lo so! Questa ci prende! Aia! Merda! Non vedo più niente! Eh... Io pure! Cavoli, quanto dura! Oh, allora! Ma porca trota! Dura un tempo! Aia! Aia! Morto! Morto! Come è morto! Ma da cazzo! Dai! Dov'è? Qua! Qui! E' la miseria! Qua ci vuole secchio! Dov'è la romposta! No! Ci sta speronando! To! To fregare! No! Anche il megalo duonte! Ma cosa sta succedendo? Dov'è la romposta! Avan posto di là! Dov'è la romposta! Dov'è la romposta! Dov'è la romposta! Prova... Con le secchiate a... A ribaltarla su qua! Dov'è la romposta! Cazzo! Uff! Mi sa che stiamo finendo il legno! Non volevo dire tu! Mh! Mi sa che l'abbiamo bello che è finito il legno! Non è nemmeno la romposta! Lo prendiamo! Allora si può ripartata! Quindi tu dici che anche se non ripariamo i buchi possiamo continuare con il... Sto riparando io! Ce ne avevo qualche due! Ma che cazzo! Eri ce la vedo! No! Ma che cazzo! Mi son cagato addosso! Mi son cagato! Mi son cagato! Mi son cagato addosso! Mi son cagato addosso! Ma va! Ma va! Ma va! Un po' al gusto! Ma raga! Mi son cagato addosso! Ma neanche a Gardaland! Dove? E' finito! A terry lo stavano mangiando! C'è veramente! No a scatti gio... No! Aspetta 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 a dove? Ok! Il secchio! Arrivo! Ce la abbiamo di fianco Ale! Eh! Resistiamo siamo quasi all'avantposte! ma come facciamo? Scusa siamo in un avamposto ma cosa fa? merda no si è caduto dalla... nooo uomo in pane uomo in pane non so cosa fare prendo lo scheletro quello lì oro almeno questo vaffanbu prova a tornare in nave prova a tornare in nave che prendi l'altra sto smottando Ale tu avvicinati il più possibile siamo sull'isola perchè se ne sta andando lui avvicinati il più possibile aspetta che faccio la manovra nooo che è successo? dai vai vai qualcuno non ha messo l'ancora non mi fa salire nooo non mi fa salire dimmi che li abbiamo persi tutti Ale no no l'avevo posato qui per andare a prendere gli altri io eh non mi fa entrare Ale raga raga ma cosa è successo? c'è anche un altro galeone Terry mi sa che non siamo da soli le devo consegnare il più in fretta possibile consegna Ale ormai la nave è andata la nave è perduta porco due oh ok fatto mille e due cazzo ce l'abbiamo dietro Ale cosa facciamo? abbordiamo dai eh ma io sono in un... ah perchè ce ne ho una di fianco pensavo che fossi tu no sono sull'isola io come è che si fanno le motte? la z prova a dirgli che siamo amici fai qualcosa magari potremmo andare anche in giro insieme nooo s il megalodonte ce l'ho sotto aiuto cazzo ma come è il megalodonte lì su? gli sta sparando anche lui no no sparategli raga è morto non ci... il terba da fuck ma non è un megalodonte ah no che... era uno squadro fai amicizia con gli altri sta sparando mi ha ucciso mezzo porco prova a ripristinare la nave io vado dalla sirena vai ma tu avevi del bottino? no no ti stanno scavallando robe a me? si ah beh avevo forse due palle di cannone ok non mi hanno visto io ero sott'acqua bravo svegli cappa cioè praticamente raga sono rimasto sott'acqua per non farmi sgamare non si può cambiare sessione Terry eh si Terry William si si può ma solo quando... si ma non c'è una sessione dove noi non abbiamo nemici eh no certo è un multiplayer cazzo come giocare... oh ecco ti qua spread bella ragazzi comunque siamo riusciti a fare uno scheletro mamma mia raga non mi sono emozionato così non mi sono emozionato così da un bot che z'lafti ciao 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 ciao